Buonasera e ben trovati a RTTR Volley. Anche questo lunedì siamo a raccontare una vittoria dell'ITAS in Superleague ma soprattutto andremo ad aprire quella che è una settimana decisiva perché si assegna domenica prossima, lo sappiamo, il primo trofeo di questo anno solare 2021, la Coppa Italia e di tutto questo parleremo con il nostro ospite di questa sera, abbiamo in collegamento Mr. Angelo Lorenzetti. Buonasera Mr. Buonasera a tutti voi. Grazie per essere qui anche perché è stato un lungo rientro dopo Vibo, voi siete tornati subito dopo questo bel successo, ce lo può raccontare insomma sulla carta, a vederlo era tutto facile ma sappiamo che non è sempre così scontato. Sì ci abbiamo messo del nostro, Vibo ci ha messo del loro non facendo certamente la migliore prestazione anche se la partenza dei ragazzi di Trento è stata importante, ha subito scombusolato il loro cambio palla e da lì soprattutto i primi due sette sono stati più agevoli. il terzo sette la nostra battuta ha fatto meno danni e loro hanno fatto valere le qualità tecniche che hanno dimostrato fino adesso in questo campionato cercando di rimanere attaccati però i ragazzi hanno chiuso velocemente la partita e non siamo andati giù con l'idea di chiudere velocemente ma con l'idea di voler chiudere la partita per il terzo posto perché di impegni ne abbiamo tanti e adesso dopo la Coppa Italia avremo due impegni dove cercheremo di fare dei punti e al tempo stesso cercheremo di prepararsi al meglio per quel che riguarda la bolla di Champions che andremo a fare in Germania. Sulla battuta come fondamentale state veramente giocando bene ma non solo nelle battute spinte vediamo molti della sua rosa che giocano varie opzioni, lo stesso Simone che va a spingere poi va a corto, insomma è un fondamentale su cui state lavorando tantissimo quest'anno. Ma anche gli altri anni ovviamente dipende anche dalla qualità dei giocatori, insomma in questi anni Trento magari non è stata mai ai vertici però è sempre stata alle prime, è chiaro che lo scorso avevamo altri tipologi di battitori quindi avevamo scelto altre strade, quest'anno le caratteristiche tecniche di questi ragazzi fanno sì che possa essere veramente il primo fondamentale d'attacco, questo a volte ci porta a commettere anche un po' troppi errori, stiamo lavorando per cercare di mantenere la qualità buona calando gli errori, ovviamente non è facile anche perché il livello del bagger delle altre squadre è buone e quindi se vuoi incidere bisogna avere una buona velocità e ovviamente aumentando la velocità possono aumentare anche gli errori. E allora andiamo a vedere subito il primo servizio, quello che ci racconta della vittoria di Trento contro Vivo per 3-0. Trento fa la voce grossa con Vivo, l'ultima squadra in grado di sconfiggere i gialloblu, da allora per la formazione di Lorenzetti sono arrivati 14 successi consecutivi e il quindicesimo sigillo è stato a posto proprio al Palamaiata in occasione della trasferta più lunga della Superlega. Un 3-0 perentorio che vale la messa in cassaforte del terzo posto in regular season. Mister Lorenzetti, ancora senza coia a disposizione, ha schierato lo starting six che siamo ormai abituati a vedere in campo, con Michieletto in posto 4 al posto dell'olandese. Vivo deve invece fare a meno di De Falco, gioca quindi con Rossardi Almeida schiacciatori. La cronaca del match è presto detta. Trento parte ad alto ritmo e lo mantiene sempre, concedendo all'avversario appena 8 breakpoint. Un risultato netto, conquistato in un'ora e 12 minuti. Tanto è bastato agli uomini di Angelo Lorenzetti per chiudere i tre set al 13, 16 e 20. Un finale mai in discussione, in un match decisamente a senso unico. Trento ha messo a terra 12 ace, chiudendo col 54% in attacco e 7 muri punto. Migliore in campo, Lucarelli con 13 punti personali, di cui 4 in battuta e il 56% in attacco. Ottima la prestazione anche per Nimir Abdelaziz, best scorer, con 15 punti, di cui ben 6 al servizio. Andiamo a sentire anche le reazioni a caldo di alcuni protagonisti del match di ieri sera. Una bella vittoria, tre punti molto importanti, comunque abbiamo confermato il terzo posto in un campo molto difficile. Credo che la squadra di Vivibo sicuramente è la sorpresa di questo anno come stanno giocando in generale. Però noi eravamo molto preparati per questa partita, siamo entrati veramente con un atteggiamento giusto e abbiamo dominato da prima fino all'ultima palla. Siamo molto contenti, è il risultato che volevamo per blindare il terzo posto che adesso è matematico e questo sicuramente non ci deve far accontentare perché comunque ci sono altre partite a giocare prima della fine della regular season. È una partita che ci poteva servire per la prossima settimana, per quello che sarà la prossima settimana. Forse ci aspettavamo un'intensità un po' più alta da parte di Vivibo, però va bene così, nel senso che siamo stati anche molto bravi noi da subito a imporre il nostro gioco e quindi siamo molto molto felici di com'è andata. Ed ora allarghiamo lo sguardo a quella che è stata la nona giornata di ritorno per questa Superlega. Terzo ultimo impegno di regular season, lo ricordiamo, con cisterna battuta in casa da Civita 9 a 0 a 3, la super sfida era quella tra Modena e Perugia con la Sir che ha avuto la meglio al Palapanini per 3 a 1, Vibo Trento lo abbiamo visto 0 a 3, Milano Padova 3 a 1, Piacenza Verona 3 a 1, Ravenna Monza 1 a 3, risultati a cui si aggiungono i recuperi giocati in settimana fra Monza e Vibo finita 3 a 1, Civita 9 a Monza 3 a 1, Milano Modena 3 a 2 e sommando tutti questi risultati si arriva alla classifica così aggiornata con Perugia in testa con 52 punti, segue Civita 9 a 49, poi c'è Trento a 44, 10 punti in più di Vibo, c'è Monza che ha una partita in meno e 33 punti, 32 punti per Piacenza, poi Modena 28, Milano 26, 22 per Verona, Ravenna 16, Padova 13 e 5 punti per Cisterna. Come dicevamo mister, questo terzo posto lo avete cercato, avete messo in cassaforte perché ormai insomma come andranno le ultime due partite di regular season non lo sappiamo ma il terzo posto resta assicurato. Sì, ecco per onestà sportiva diciamo che avevamo iniziato con l'idea di dare del filo da torcere alle classiche prime due, questa volontà non è stata ben subito chiara dai primi risultati e ci eravamo messi in una situazione di classifica piuttosto precaria dalla quale si poteva uscire solo attraverso una striscia importante e sappiamo che farlo nella Superlega non è cosa semplice né scontata, i ragazzi ci hanno creduto, sono stati bravi, abbiamo avuto un po' di fortuna in qualche partita, come è ovvio che sia, come un po' di sfortuna l'abbiamo avuto nelle partite perse e questo insomma se posizioniamo temporaneamente il giudizio dopo la crisi è un grande risultato. Ripeto onestamente insomma noi volevamo dare del filo da torcere alle due, speriamo di essere competitivi alla fine del campionato. Anche perché sappiamo che quest'anno la formula è un po' cambiata, tanto più era importante chiudere tra le prime cinque, comunque giocarsi la prima fase di playoff in casa anche con questo terzo posto. Questo che dici tu è importantissimo perché nella Superlega di avversari tranquilli non ce ne sono e quindi il poter fare un turno in meno non ti dà chissà quale garanzia di andare avanti, però sicuramente ti dà la possibilità di avere delle difficoltà in meno delle tensioni, in meno degli sforzi fisici in meno. Questo non è un vantaggio grandissimo, però è un piccolo spunto, ma l'importanza del terzo posto è relativa alla stagione prossima, nel senso che sappiamo per esperienza diretta che il terzo posto non è garanzia assoluta per poter partecipare alla Champions, tuttavia è quello che dà più possibilità rispetto ad altre. Quelle manifestazioni a cui la società, i sponsor, noi vogliamo partecipare, perché solo partecipandoci tante volte dai dai, magari una volta arrivi in fondo. Allora andiamo a vedere il servizio che ci spiega come andrà avanti la Superlega, così poi cominceremo a parlare invece del futuro più prossimo di Trento. Mentre questa settimana la Coppa Italia si prende la scena, la Superlega scalda i motori per il gran finale di Regular Season. La prossima settimana si giocano infatti le due partite che ancora mancano per chiudere le 22 giornate di Regular Season. Per l'Itast Trentino si tratta di una gara in trasferta e di una in casa, rispettivamente contro Milano, a sette giorni esati dalla sfida dei quarti di Coppa Italia e a meno di un mese dal recupero della partita del girone di andata, slittata a causa del coronavirus, e contro Ravenna, dove peraltro giocherà nell'anticipo di sabato 6 febbraio, vista l'imminente partenza per la Germania, dove la squadra è attesa al secondo girone di Champions League. Al termine della Regular Season però questa strana stagione non proseguirà automaticamente con gli accoppiamenti ottava, prima, settima, seconda e così via, come eravamo abituati a vedere, per poi andare ai quarti di playoff. La Lega a pallavolo ha infatti approvato il parere positivo dei vari organi consultivi, varando la revisione e riprogrammazione del planning, in vista della situazione di emergenza sanitaria in corso. Obiettivo è la salvaguardia del valore e del livello tecnico del campionato. Anzitutto abolendo per questa stagione le retrocessioni, che sarebbe stata comunque quella della sola ultima classificata, al termine della Regular Season, stabilendo poi una finestra di nove giorni fra la chiusura della Regular Season e l'apertura dei playoff, per permettere eventuali recuperi a quelle squadre che dovessero riscontrare positività al Covid in questa fase. e introducendo un turno preliminare. La scalata verso lo Scudetto sarà infatti aperta non più alle sole prime otto classificate, bensì a undici formazioni. Con questa formula, le prime cinque al termine della Regular Season saranno di diritto ai playoff. Le formazioni che occuperanno le posizioni dalla sesta all'undicesima giocheranno un turno preliminare al meglio delle tre, con la possibilità, per la meglio classificata, di avere due partite eventualmente in casa. Questo turno preliminare si aprirà domenica 21 febbraio, per chiudersi al più tardi, sabato 6 marzo. I playoff veri e propri, con le gare dei quarti così come ne conosciamo, prenderanno dunque il via mercoledì 10 marzo, nei palazzetti delle prime quattro squadre in classifica, al termine della Regular Season. Dunque, dicevamo, dalla settimana prossima ricominceremo a parlare di Superlega, di Regular Season, perché questa settimana, mister, c'è un appuntamento, anzi ce ne sono tre in realtà, speriamo, importantissimi. Si comincia mercoledì, gara da dentro fuori, subito contro Milano, per guadagnarsi questa Final Four, a cui voi tenete tantissimo. Assolutamente sì. Questo commento si linka, si collega a quello che ho detto prima, nel senso che nella Superlega di tranquillo non ce n'è, e quindi i quarti della Coppa Italia sono quarti sempre competitivi, ed è soprattutto importante capire, da parte delle squadre che vengono dette favorite, che questa è veramente un'altra manifestazione, che tutto il vissuto prima ha determinato la griglia, ma non determina la tipologia di evento che sarà. Questo ovviamente è un qualcosa che è bello, perché dà del sale allo sport, è un qualcosa che deve essere analizzato nel fatto che dobbiamo scendere con una grande mentalità, affrontando tutto quello che ci sarà, sapendo che le partite dentro fuori possono essere forte, possono essere lunghe, possono essere giocate bene, giocate male, e l'importante è mettere giù la palla, e con quell'ultima palla da mettere giù bisogna arrivarci preparandosi dal punto di vista mentale, anche perché in campo per prepararsi possiamo poco, però dal punto di vista mentale dobbiamo essere belli determinati, belli pronti. Milano l'avete affrontata di recente, però sarà completamente un'altra partita, soprattutto un'altra formazione da parte loro? Sì, soprattutto non sappiamo che formazione sarà, perché l'abilità di questo allenatore così esperto è stata in questo periodo qui di cercare di fare dei punti, ma di salvaguardare qualche situazione fisica dei suoi ragazzi e di far fare esperienza a tutti. Le capacità tecniche, soprattutto per quel che riguarda il posto 4, ne hanno parecchie. Questo ha dato garanzia, soprattutto nella penultima partita, ma anche un po' ieri contro Padron, ma nell'ultima partita contro Modena, di poter arrivare ad un risultato che a un certo punto del secondo set sembrava esperato. Questi continui cambi che i ragazzi di Milano hanno assorbito e che Roberto sa gestire al meglio danno un valore in più a questa squadra. Da parte nostra è più facile perché c'è poco da preparare. Quando non sai quello che avrai di fronte, devi determinarti quali sono le tue linee guida del tuo sistema di gioco e poi cercare di leggere il gioco il prima possibile e pronti i cambiamenti che Milano ci costringerà a fare. A proposito di cambiamento, possiamo dire come sta Dick? Se potremmo riaverlo a breve, perché manca un pochino di respiro. Ci siamo, ci siamo. Prima della partenza di Vibo ha fatto un allenamento pressocui completo. Anche la prima volta eravamo stati molto cauti e vale a dire che è rientrato con una settimana, 8-9 giorni di posticipo rispetto ai tempi fisiologici. Questa ricaduta, anche se infortunio non è proprio nella stessa zona, ci obbliga per la salvaguardia della sua salute, di essere cauti, però mi sembra che il ragazzo abbia fatto un bel allenamento, anche un bel riscaldamento giù a Vibo e penso che questa settimana sia proprio disponibile per la Rosa. Questo è fondamentale in un momento in cui si entra veramente nella fase decisiva, perché questa settimana si gioca la Coppa Italia, poi finirà la regular season e voi andrete, come ricordava all'inizio di questa trasmissione, anche a giocarvi un importantissimo girone di Champions, quindi è importante anche avere la Rosa al completo, incrociando le dita sempre. Sì, assolutamente sì, non che questi ragazzi nella loro carriera non siano abituati, soprattutto per quel che riguarda le nazionali, a fare più giornate consecutive di partite, però obiettivamente questa, per le note storie di questa emergenza sanitaria, per quello che riguarda i ragazzi post-Covid, ogni giorno ci evidenzia che qualcosa di non conosciuto c'è e quindi questi impegni agonistici così elevati e così continui sono un piccolo rischio che ci sta nello sport, ma che se si ha la possibilità di poter, non dico gestire, che hanno voluto programmare e pensare di avere più alternanza possibile, è ovvio che dentro quel rischio ci si cade di meno e questo insomma è quello che noi vogliamo fare. Quindi, tornando un po' agli impegni di questa settimana, mi sa voi preparate ovviamente in un giorno e mezzo, perché siete tornati stanotte, quindi non so oggi cosa abbiate potuto fare la partita dei quarti e poi eventualmente si deve pensare a Perugia, che è la prima in classifica, so che voi non amate guardare oltre, ma noi ci facciamo un pensierino. Noi dobbiamo in queste poche ore oliare bene la nostra motivazione, far sì che la nostra volontà non sia fatta di parole solo, ma sia fatta di atti concreti e sono convinto che Milano ci costringerà a farlo, è chiaro che la fiducia e la motivazione ad andare a Bologna e provare in umiltà, ma con grande determinazione, a starci due giorni anziché uno, come è capitato negli ultimi anni, c'è, questo senza alcuna pretesa, ma con la volontà di dare tutto in questa settimana che è da tempo che aspettiamo. Allora andiamo a vedere anche il nostro ultimo servizio di oggi che ci racconta proprio questa formula della Coppa Italia per questa settimana. Vediamo. Si apre una settimana tutta all'insegna della Coppa Italia, sono infatti ben otto le formazioni che in pochi giorni si giocheranno il primo trofeo in paglio per l'anno 2021. Tra 27 e 31 gennaio sono infatti in calendario le quattro partite valide come quarti di finale, le due semifinali e poi la finalissima del trofeo. Si comincia mercoledì 27 gennaio quando si gioca sui campi di Civitanova Marche, Modena, Perugia e Trento, ovvero in casa di quelle quattro squadre capaci di qualificarsi alla fase finale nella parte alta della classifica. I quattro match sono in calendario a partire dalle 17. Le prime squadre a scendere in campo saranno Civitanova e Padova. Un'ora più tardi giocano Perugia e Ravenna. Alle 19 spazio alla sfida fra Trento e Milano. Alle 20 e 30 chiude la giornata la partita fra Modena e Monza. Le quattro vincenti si daranno poi appuntamento alla Unipol Arena di Bologna per il fine settimana, seguendo questi accoppiamenti. Alle 15 e 30 la prima semifinale. La vincente fra Civitanova e Padova incontrerà la migliore fra Modena e Monza. Alle 18 la seconda tra chi avrà giocato meglio fra Trento e Milano e tra Perugia e Ravenna. La finalissima in programma domenica 31 gennaio alle 18 fra le due vincenti del doppio match in programma la giornata prima. Ci fermiamo ora per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo insieme ancora con mister Lorenzetti. Rieccoci insieme a RTTR Volley. Abbiamo introdotto questa settimana decisiva perché si assegna già un trofeo, quello della Coppa Italia. Noi siamo in collegamento con mister Lorenzetti a cui chiedo, abbiamo visto i tanti impegni, abbiamo raccontato più volte di questo splendido filotto di successo, sono ormai 15 consecutivi. Come state a livello fisico e mentale per affrontare queste settimane decisive, questi impegni importanti? Dopo la Champions magari ci sarà un attimo per rifiutare, però adesso sono veramente settimane caldissime. L'aspetto fisico e mentale ovviamente riguardano due sfere diverse. Per quel che riguarda l'aspetto fisico penso che sia abbastanza scontato che trattandosi, parlando di una squadra, quindi di 13 giocatori, di 13 fisici diversi, con carichi di lavoro fin qui ben diversi, è difficile dare un valore omogeneo. C'è chi sta bene e c'è chi invece un pochettino sta soffrendo come capita in queste stagioni qua. Però nessuno in questo momento qua, facendo gli scongiuri, è a rischio per la Coppa Italia. Per quel che riguarda l'aspetto mentale, mi sembra che i ragazzi siano con la mentalità giusta, quella di essere consapevoli di poter fare, ma con la possibilità di voler dimostrare. Dopodiché è un qualcosa che io penso, perché li vedo tutti i giorni, però non sono dentro di loro. Spero che nelle parole che ci siamo scambiati siano stati seminati dei valori giusti per affrontare questa settimana e lo vediamo loro a carichi mercoledì. Quanto li sente gruppo quest'anno? Perché sappiamo che si può farlo, sono dei professionisti, però c'è anche un fattore immagino personale, un fattore di costruire insieme qualcosa. Voi avete cominciato magari tra qualche difficoltà e poi siete esplosi in questa striscia stupenda di vittorie. Sì, questo di quest'anno è un gruppo un po' particolare. Dopo tanti anni, dopo l'ultimo anno di Modena, ho riavuto un gruppo che ha reclamato un po' di indipendenza. Periodicamente qualche gruppo mi dice che sto diventando sempre più vecchio. Questo è un gruppo creato così, anche parte delle problematiche iniziali sono un po' legate a questo aspetto qua, a questa mia lenta conoscenza di questo gruppo. Quindi quando si vince si dice sempre che sia un bel gruppo. A me mi sembra che a livello di relazioni sia un gruppo che si relazioni in maniera onesta, sincera e concreta, come possiamo dire tra di noi, vale a dire che quando è ora di dirse ce le diciamo. Comunque è stato uno stile tutti questi anni qui a Trento. e vedo in questo Simone dare un grande contributo. Rispetto al gruppo di anno scorso abbiamo perso delle personalità importanti in tutto il gruppo, come Candellaro, come Daldello. Ne abbiamo acquisite altre, che adesso non voglio sottolineare, però mi sembra che è un gruppo che piano piano può fare a meno delenatore. Questo direi mai. Intanto grazie, mister, in bocca al lupo per questa settimana. Buon lavoro, dico solo questo. Grazie, grazie. Grazie, mister Lorenzetti. Noi ora torniamo invece a Vibo Valencia a rivedere il match vinto da Trento per 3-0 contro la Tonno Calipo ieri sera e ci vediamo qui a RTTR Volley la prossima settimana, lunedì sera alle 21. Ciao!